Premio Boccaccio 2016, un riconoscimento importante per una scrittrice altrettanto importante. Il libro è Maria Baiocchi, che ha fatto tutto questo lavoro di traduzione meravigliosa e ovviamente è importante perché il sugetto del libro è italiano, è Lampedusa, è questa piccola lì, quindi per me è un prezzo che si guarda in tutto l'Italia. Stai già lavorando a qualche altro libro che forse ti porterà di nuovo a essere qui in Italia? Sì, è una questione, in mio prossimo libro, di motivi italiani, di immagini italiani, soprattutto la questione di marbre, di marbre italiani, che sarà presente in mio libro. Grazie. 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 Grazie.